Andiamo avanti e vediamo questo curioso pianeta nano. È curioso perché ha due caratteristiche particolari. Uno, una forma molto schiacciata, dovuta probabilmente alla sua rotazione, e due, un anello. Questo oggetto, molto piccolo, è l'oggetto più piccolo conosciuto con la presenza di un anello e due satelliti. Quindi vedete che questi pianeti nani possono rivelarsi molto interessanti e sono qualcosa di molto diverso da un semplice asteroide. Anche qui abbiamo la supposizione di una struttura interna costituita da roccia, e poi una parte esterna di volatili, principalmente ghiaccio di acqua, ma non solo. Il pianeta ha una rapida rotazione che completa in quasi 4 ore terrestri e quindi questa rapida rotazione, dovuta alla bassa gravità e alla bassa incorrenza dei suoi materiali, gli conferiscono una forma così schiacciata, molto larga all'equatore e molto schiacciata ai poli. Questo oggetto riesce a trattenere un sottile anello di detriti e due lune distinte, una di 350 e l'altra di 170 chilometri. Poi ancora abbiamo Make Make, un altro pianeta, il quarto pianeta d'anno per dimensioni, presente nella fascia di Kuiper, ed è però l'oggetto più luminoso. Non sembra avere un'atmosfera, ma ha una superficie che riflette moltissima luce, e questo sembra dovuto alla presenza di molto ghiaccio, soprattutto ghiaccio di azoto. Inoltre la sua orbita molto estrema ha ritardato la sua scoperta perché lo porta molto al di fuori del piano dell'orbita dei pianeti e quindi bisogna andare a cercare una zona del cielo in cui normalmente non si cercano i pianeti. Ancora, questo oggetto ha anche un satellite, MK2, che a differenza del pianeta stesso, riflette molto meno luce, e quindi il pianeta ha una riflettività molto alta, prossima al 95%, invece la sua luna è molto più scura, riflette solamente da 3 al 4% della luce solare. Questa differenza di riflettività potrebbe essere la prova che la sua luna sia un oggetto estraneo catturato in passato. Sedna è molto interessante, è stato scoperto nel 2003 ed è stato uno dei primi pianeti scoperti nella fascia di Kuiper che hanno cominciato a far insospettire gli scienziati sul fatto che Plutone possa essere qualcosa di diverso da quello che era stato immaginato fino ad allora. Poi vedremo che le scoperte successive hanno convinto gli scienziati a declassare Plutone da pianeta normale a pianeta nano. Vediamo in dettaglio questo pianeta. Ecco come appare dal telescopio spaziale Hubble e come in questa fotoseguenza si può notare il suo spostamento sullo sfondo di stelle fisse. È così che si scoprono i pianeti se ci sono questi puntini luminosi che si muovono lungo uno sfondo di stelle fisse. Dalla velocità di movimento si può capire quanto è distante e quanto tempo impiega a orbitare intorno al Sole. Inoltre questo oggetto ha una struttura differenziata dove abbiamo una crosta rossastra, probabilmente contenente materiale organico, un mantello ghiacciato con probabilmente uno strato liquido e poi abbiamo un nucleo roccioso. La cosa interessante di notare di questi corpi è che nonostante siano molto piccoli, hanno grandi probabilità di avere un oceano liquido sottostante e quindi nonostante siano oggetti molto diversi dalla Terra, potrebbero addirittura ospitare forme semplici di vita. Ma finché non si vanno a studiare non si può sapere. Cosa possiamo dire di questo pianeta? Intanto la sua orbita ha un'orbita veramente eccentrica e molto grande, tanto che compie un'orbita completa intorno al Sole in 10.408 anni. Questa orbita lo porta addirittura ai limiti, ai bordi della fascia di cui, per essere non oltre, ma come vedete è molto piccola rispetto alla nube di Oort. In particolare, la superficie di questo pianeta, anche se non è stata mai osservata direttamente, sembra di essere di tipo rossastra. Potrebbe essere il corpo più rosso del Sistema Solare dopo Marte. Questo colore rossastro è dovuto alla componente chimica tolina, che è un composto chimico organico che si forma quando il metano subisce reazione fotochimica con la radiazione solare. Poi, inoltre, possiamo vedere qui le dimensioni a confronto con la Terra, ma la cosa particolare da vedere è notare la sua orbita, cioè la forma della sua orbita molto eccentrica, ma soprattutto messa a confronto con il bordo interno della nube di Oort, quindi comunque molto piccolo. Questo pianeta, che ci mette poco più di 10.400 anni a fare un'orbita intorno al Sole, in questo momento storico si trova vicino al Sole, ed è questo il motivo per cui oggi è stato scoperto. Se questo oggetto si fosse trovato più lontano, probabilmente non sarebbe stato osservato, non solo perché si sarebbe trovato in una zona più buia del Sistema Solare, ma anche perché a una distanza maggiore, secondo le leggi di Keplero, la sua velocità orbitale sarebbe dovuta essere molto più lenta e quindi sarebbe molto più difficile rilevare il suo movimento sullo sfondo di stelle fisse retrostante. Questo data a pensare gli scienziati, perché ci si immagina che là fuori ci siano tanti corpi come questo, con un'orbita così eccentrica, che però in questo momento storico si trovano lontani dal Sole e quindi si stanno muovendo molto lentamente in una zona molto buia del Sistema Solare, e per questo motivo non li stiamo ancora scoprendo. È probabile che là fuori siano veramente centinaia o migliaia i pianeti nani simili a Plutone, Eris, Sedna e tutti gli altri visti fino adesso. La caratteristica di questi oggetti è proprio quella di essere degli oggetti che sembrano delle comete per la loro composizione chimica, ma che però sono differenziati in una struttura interna e che in alcuni casi addirittura possono avere anche un'atmosfera o dell'attività geologica in superficie. Andiamo avanti e vediamo Eris. Questo è più lontano, addirittura tre volte la distanza che c'è tra il Sole e Plutone, quindi è molto lontano, però è più massiccio di Plutone, quindi sembra essere costituito più da silicati, quindi rocce, che da volatili. Ha un'orbita molto inclinata, circa 44 gradi sul piano dell'eclittica, e riflette il 96% della luce che cede al Sole. Ha un satellite chiamato Disnonia. Questo oggetto sembra avere un'atmosfera che si congella sulla superficie quando si trova nel punto più lontano al Sole e che invece rievapora quando si avvicina ad esso. Inoltre è stato scoperto molto tardi, solamente nel 2005, perché la sua orbita molto inclinata lo porta in regioni del cielo dove normalmente gli scienziati non vanno a cercare nuovi pianeti. Quindi probabilmente sono tantissimi i pianeti ancora da scoprire, che però non vengono scoperti perché semplicemente si trovano molto al di sopra o al di sotto del piano dei pianeti, del Sistema Solare, e quindi in realtà semplicemente gli astronomi non li vanno a cercare dove dovrebbero, ma li vanno a cercare dove stanno tutti gli altri pianeti. Invece no, questi hanno un'orbita che li posiziona in zone del cielo atipiche per i pianeti normali. Questo è solamente un estratto della lezione completa su Plutone e i pianeti nani. Nella lezione completa spiegherò che cos'è un pianeta nano, ci sarà un ampio spazio dedicato alle ultime scoperte su Plutone, grazie alla sonda New Horizon che l'ha raggiunto nel 2015. Parlerò anche degli altri pianeti nani come Cerere, che è stato studiato recentemente dalla sonda Dawn, e appunto proprio la missione Dawn, che ha studiato i corpi minori della fascia degli asteroidi. Questo ed altro ancora nella lezione completa, la numero 15 del mio corso di astronomia, Plutone e i pianeti nani. Potete trovarla nel mio canale YouTube e sulle mie pagine Instagram e Facebook Prof Antonio Loiacono. Grazie.